Si pensava fosse un incendio doloso dietro il quale potesse nascondersi una vicenda legata ad episodi di estorsione. In realtà il muovente del rogo appiccato il 24 aprile 2013 nel noto salone di parrucchieri Fiorenzo e Anna di via Garibotti era stato di tipo passionale. E' quanto emerso in tribunale nel processo che vede imputato un 46enne pluriprogiudicato cremonese alle spalle ben 29 precedenti penali e all'epoca ex di una dipendente del negozio. L'uomo da tempo perseguitava la donna con la quale aveva avuto una lunga relazione, ben 15 anni di convivenza. Dopo la rottura del rapporto il cremonese ha iniziato a molestare la ex, una situazione pesante che aveva costretto la donna a cambiare abitudini e a vivere in uno stato di paura e ansia. L'escalation di questi comportamenti è avvenuta tra gennaio e aprile 2013 quando l'uomo ha iniziato a seguire la sua vittima anche al lavoro. La notte del 24 aprile l'incendio al Salone di Bellezza con ingenti danni, sei vetrine distrutte con un tombino e lancio di tre molotov all'interno del negozio. Al termine del procedimento penale il 46enne accusato di stalking, danneggiamento seguito da incendio, appropriazioni in debita ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha patteggiato due anni di reclusione.